E diamo il benvenuto all'Expo di Milano direttamente dal cuore del Mediterraneo nell'isola di Pantelleria perché non eravamo contenti di fare questa isola attraverso i protagonisti presenti lì a Milano ma vogliamo accompagnarvi in questo viaggio alla scoperta dell'essenza di questo territorio meraviglioso con i racconti delle esperienze degli isolani di Pantelleria che risiedono qui, lavorano e danno anima a questa meravigliosa isola. La location che ci sta ospitando è il giardino di Zubebi. Già il nome è particolarissimo perché Pantelleria è riserva di antiche tradizioni e Zubebi è proprio l'antico nome arabo dello Zibibbo, l'uva bruciata dal sole e noi ci troviamo nell'omonima contrada, voi non potete vederlo ma abbiamo la cosiddetta cuglia bruciata che è questa collinetta lavica meravigliosa di terra rossa. Qui veramente è tutto un pululare possiamo dire di percorsi nel passato ma anche nei tempi più moderni. E dicevo iniziamo questo viaggio alla scoperta di questi sapori, delle essenze, dei profumi di questa isola meravigliosa accompagnati da questo clima estivo che si avverte tutto. Parliamo con l'assessore all'agricoltura, giovanissima donna agronomo Graziella Pavia che ci racconta come l'isola sta vivendo questa importantissima ribalta, appena ottenuto il riconoscimento onesco e questo possiamo dire è l'anno di Pantelleria perché premia lo sforzo degli uomini che sono veramente innamorati delle proprie terre. Sì sì, è proprio l'anno del riconoscimento di Pantelleria ed è l'anno di riconoscimento di un lavoro secolare degli uomini dedito all'agricoltura. Il riconoscimento dell'unesco è stata una traversata lunga e laboriosa che però la fatica e la dedizione dell'uomo è arrivata al suo culmine, quindi a questo grande riconoscimento perché di fatti il pensiero o comunque l'ideale va subito a identificare come un riconoscimento dell'alberello in sé. Il riconoscimento dell'unesco è quello di una pratica agricola e quindi al ritroso di un uomo che ci sta dietro e dell'umanità e dell'amore che l'uomo ci mette a far sì che quell'alberello porti il suo frutto. Ecco, è un premio veramente per gli uomini. Graziella, consentimi un attimo perché è proprio con loro che voglio parlare, con i protagonisti del passito, del vino di Pantelleria. Noi ne abbiamo raccolti alcuni, li abbiamo radunati. Benvenuti perché vogliamo conoscere cosa ci sta dietro a queste bottiglie fantastiche che poi tutti vengono qui per assaporare perché per carità il mare è bellissimo e il paesaggio è fantastico, ma cavolo il vino è veramente buono. Allora, iniziamo da questa parte perché Salvino Gorgone produce il passito per eccellenza. Salvino, una bottiglia che è stata premiata ma che dietro ha veramente una grande ricchezza e cosa c'è dentro questa bottiglia? Chi meglio di te può raccontarcelo? Sì, buongiorno a tutti innanzitutto a Milano. Io sono uno che chiude un po' la filiera in quanto inizio con coltivare la terra e finisco con mettere questo passito naturale di Pantelleria in bottiglia. Bene, dicevo, questo riconoscimento UNESCO va a premiare la tradizione che voi con grande impegno avete portato avanti negli anni. Ecco, chiaramente la vita d'alberello risale a generazioni passate che però, insomma, la loro esperienza continua a vivere oggi attraverso voi, attraverso i vostri figli e nipoti. Sì, è un riconoscimento molto importante ma che, come io precedentemente ho detto in qualche intervento, dobbiamo anche condividere soprattutto con i nostri predecessori, i nostri padri, i nostri nonni che ci hanno trainato in questa favolosa avventura fino a farci ottenere adesso questo riconoscimento importante. Bene, perché per i produttori, per i coltivatori il rapporto con la terra è veramente una cosa meravigliosa. È indispensabile assolutamente, guardate le donne di Pantelleria e che donne, delle produttrici che si danno da fare e che veramente rendono l'operatività di quest'isola a 360 gradi e in particolare Emanuela Bonomo, tu hai un'azienda che oltre a vino valorizza quelle che sono le ricchezze di questa terra. Le picche di questa terra, i capperi, l'origano, l'uva passa e noi abbiamo anche produzioni di prodotti, vendiamo prodotti freschi quindi anche l'arancia fresca ma che poi andiamo a trasformare nel nostro laboratorio come marmellate, pattee quindi di capperi e quant'altro. Voi siete però agevolati perché con questo clima, con questo paesaggio chiaramente i sapori sono diversi. Assolutamente diversi e inconfondibili per chi insomma li gusta. E a proposito di donne, Caterina ha pazienza che gestisce un'azienda tutta al femminile, no? È particolare questo vostro esempio. Voi siete sorella, zia? Sì, siamo tutti familiari che gestiscono l'isola e soprattutto donne perché siamo io, mia sorella, mia zia, mia madre e siamo come potrete sentire dal mio accento non panteschi ma veniamo dal centro Italia, ci siamo innamorate di questa isola e abbiamo trasferito la nostra passione in quello che facciamo qui perché appunto dal 2009 imbottigliamo, abbiamo questa azienda agricola insomma dai primi anni del 2000 e soprattutto il nostro scopo ovviamente è quello di produrre un buon passito ma è quello di mettere il nostro impegno e la nostra passione in un bianco secco di Zibibbo che è il vino che ci contraddistingue come azienda. Da quest'anno addirittura siamo usciti con due etichette, Silenzio e Iardino, qui oggi vi farò vedere Iardino. Dopo lo assaggiamo e gli raccontiamo a Milano com'è, così li facciamo un po' rosicare, no? Scherziamo, voi avete la possibilità di conoscere questi fantastici prodotti e in ogni modo Pantelleria è qui che va spetta. Io ti ringrazio per questo tuo intervento però ti voglio fare ancora una domanda perché ecco soltanto attraverso i loro racconti possiamo capire lo stile di vita di quest'isola. In particolare sono tante le persone che arrivano, si innamorano e mettono radici qua e poi a maggior ragione una giovane donna che sceglie di fare un lavoro faticoso. Quali sono le prospettive secondo te? Ma secondo me l'idea di tornare a fare questo lavoro è importantissima soprattutto oggi e quindi io credo che giovani come me debbano in qualche modo impegnarsi e seguire le orme, non dico le mie ma comunque quella di tutti questi splendidi esempi panteschi che qui oggi vediamo perché in fondo credo che un po' come vogliamo dimostrare con Expo, questo è un po' il futuro dell'umanità. Se lo dice lei crediamoci perché insomma se no dico chi te l'avrebbe fatto fare. Bellissime queste esperienze, pantelleria, vino e non solo perché scusatemi se vi passo davanti abbiamo parlato dell'origano, di tutte le altre produzioni e poi insomma non potevano mancare i capperi di pantelleria così corposi, polposi, non potevano che essere riconosciuti con il marchio IGP, unico prodotto al mondo e noi siamo con Saro Cappadona del Consorzio dei Capperi di Pantelleria. Allora vediamo un po' di conoscere l'entità di questa produzione, arriva un profumo che non avete idea in tutto ciò. Ormai, intanto buongiorno a tutti, ormai la produzione dei capperi dell'isola si è stabilizzata tra i 1000 e i 1500 quintali annui di produzione con circa 200 piccole aziende condotte in maniera familiare per cui ognuno procede alla coltivazione, alla raccolta del capperi, al processo di maturazione che viene fatto in maniera essenzialmente naturale utilizzando esclusivamente sale marino e poi la cooperativa si occupa di tutto il resto, dalla stagionatura del prodotto, alla selezione, al confezionamento Come viene la lavorazione del capperi? L'abbiamo detto più volte, curiosi insomma lo sanno però proviamo a dirlo visto che ci stanno seguendo da Milano perché è anche molto naturale possiamo dire come trattamento Assolutamente naturale perché intanto c'è la fatica di raccoglierli questi capperi questi capperi vengono raccolti esclusivamente a mano una volta raccolti debbono essere mescolati con sale marino circa al 35% ogni giorno debbono essere mescolati frattanto avviene un processo di disidratazione per cui sciogliendo il sale, l'acqua che esce da questo bottone fiorale forma una salamoia molto satura e mollo di questa salamoia con il remuscolamento quotidiano per circa 10 giorni avviene la prima fase di maturazione Bene, poi insomma è un condimento veramente che va messo su tutto arricchendo i piatti e noi abbiamo detto che vi accompagneremo in questo viaggio reale dei sapori, dei profumi dell'isola e dopo questo primo breve scursus di quello che sono le ricchezze naturali di questa terra passeremo in un secondo momento a deliziarvi per vedere come l'impegno dell'uomo che è fondamentale qua a Pantelleria poi rende in tavola la meraviglia e la prelibatezza di questi alimenti quindi andremo a conoscere anche le tipicità gastronomiche pantesche noi intanto approfittiamo, giustamente stanno versando il vino nei calici approfittiamo perché vogliamo fare un brindisi prima di tutto all'impegno degli uomini, alla naturalezza di questa terra che va assolutamente rispettata e poi possiamo fare un brindisi ad Expo a voi la linea